Si è appena conclusa l'udienza presso la Corte Costituzionale dove erano in discussione le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ancona e dal Tribunale di Milano riguardo alle disposizioni che in forza di quanto previsto dal decreto sicurezza impediscono l'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione. I difensori hanno riassunto le motivazioni sulla base delle quali si ritiene che la questione di legittimità costituzionale è fondata. Vedremo adesso alla Corte che cosa deciderà e le valutazioni che esprimerà in sentenza. Devo dire allo Stato attuale che trovo da un lato sconcertanti le argomentazioni introdotte durante la discussione dall'Avvocatura dello Stato e dall'altro che le stesse argomentazioni confermano invece proprio la validità delle ragioni poste a fondamento della questione di legittimità costituzionale. L'Avvocatura dello Stato ha ribadito a mio avviso che la condizione del richiedente protezione viene vista come una condizione interstiziale, una condizione posta ai margini del mondo del diritto e quindi una condizione che contrasta nettamente con invece quelle che sono le disposizioni e le normative interne e internazionali. Proprio sulla base di queste argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato emerge in realtà la finalità vera della disposizione che è in discussione, cioè quella di costruire una dinamica di minorazione sociale a carico dei richiedenti protezione e utilizzare questa condizione di minorazione sociale come elemento di pressione, tra virgolette, di punizione, di esercizio di un deflusso nelle richieste di protezione internazionale. Quindi le decisioni che assumerà la Corte Costituzionale sono decisioni molto importanti perché oltre ad una valutazione tecnica giuridica sulla compatibilità della norma con la nostra Carta Costituzionale avranno anche una diretta influenza sull'approccio culturale e giuridico con cui ci si rapporta la condizione dei richiedenti protezione. Condizione che appunto può essere vissuta, vista e approcciata in due diversi modi. Condizione necessaria, tutelata, garantita che consente nello stesso tempo di garantire e tutelare l'Istituto della protezione internazionale in quanto tale oppure condizione di mero passaggio che va, diciamo così, sottoposta a punizione e a discriminazione. Ecco, questi due campi sono due campi, secondo me, che un po' verranno giocati all'interno di questa vicenda. Quindi aspettiamo, speranzosi, che la Corte Costituzionale accetti le motivazioni poste appunto da chi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale o in senso stretto, diciamo così, affermando l'illegittimità costituzionale della norma o comunque in senso ampio dando un'interpretazione delle disposizioni che in ogni caso garantisca in maniera uniforme sul territorio nazionale il diritto dei richiedenti protezioni all'iscrizione anagrafica.